Non c'è nessuna volontà di nessuno dei partiti oggi al governo di cambiare quello che hanno fatto. Visto l'immobilismo del governo e dei politici, quelli del Bassanese in prima linea è persa ogni speranza per la riapertura del Tribunale di Bassano del Grappa. Ma il comitato sorto per l'occasione è tornato a riunirsi, cambia nome ed obiettivo, coinvolgendo anche le province di Padova, Vicenza e Treviso. Si è deciso di cambiare il nome da Comitato per la Salvezza del Tribunale a Comitato per l'Istituzione del Tribunale di Piedemontana Veneta, da intendersi come ottavo Tribunale del Veneto, e l'idea è quella di allargare il comitato e quindi rendere Veneta a tutti gli effetti la battaglia. L'unica cosa è far capire che i cittadini non possono sopportare una situazione del genere. Ma la voce dei cittadini non è ascoltata? A questo punto non è ascoltata? Non è ascoltata, bisogna trovare il sistema per farla ascoltare. Chiederemo a tutti gli altri sindaci ma anche a tutti gli altri rappresentanti di ordini professionali e categorie economiche di pronunciarsi apertamente e esplicitamente a favore di questo Tribunale della Piedemontana. La situazione è disastrosa della giustizia dopo la suppressione del Tribunale di Via Marinali, ormai indiscutibile. A peggiorarla la diminuzione delle cause e il motivo è tutt'altro che positivo. Le cause civili diminuiscono non perché non ci siano motivi di contenzioso, ma perché la gente è disperata e non fa neanche più causa, non denuncia più sotto alcuni importi perché tanto i tempi sono talmente lunghi che l'incertezza di poter poi riavere ciò che è dovuto fa disperare e molta gente non fa neanche più causa. A rimetterne, l'abbiamo in più occasioni sottolineato, sono anche le persone che necessitano di amministratori di sostegno, disabili, anziani non autosufficienti. Oggi abbiamo un giudice tutelare soltanto a Vicenza. Significa per persone che hanno problemi, problemi di assistenza, recarsi lontano, fare una giornata di fila e magari non riuscire a fare quel semplice deposito che qui si faceva in dieci minuti. Si fa un servizio che è completamente contrario all'interesse dei cittadini, ma sappiamo che questo è l'ultimo che viene guardato in generale e contano altre cose. In tutto questo rimbalza sotto i riflettori un palazzo di giustizia nuovo di Zecca ha costato 12 milioni di euro inutilizzato e pensare che a Vicenza dovranno prendere in affitto nuove stanze perché dopo l'accorpamento con Bassano, quello del capoluogo berico è insufficiente a ospitare tutto il personale esiliato dalla città ai pieri del Grappa.